Salve a tutti e bentornati a Storie di Calcio e Quiz, io sono Sava Life e oggi ragazzi ci troviamo qui a commentare il giorno dopo di Empoli Fiorentina, un derby che ha lasciato la mare in bocca, un derby che ci ha regalato una Fiorentina bruttissima, una Fiorentina che ci lascia molto perplessità, una Fiorentina che non migliora, peggiora anzi, quel poco che si era visto di buono nelle partite precedenti, ieri si è completamente sgredolato, siamo ritornati di nuovo indietro di tantissime giornate, siamo praticamente al primo ottobre e ancora non abbiamo capito, non abbiamo idea di che tipo di filosofia Pallalino voglio dare a questa squadra, un gioco o qualcosa, non si vede niente, proprio niente, ieri proprio c'è si è visto la totale confusione, la totale anarchia in campo dove ognuno fa quello che vuole e tenete presente questo punto perché ci torneremo verso la fine del video, quindi la situazione è molto molto grave diciamo perché arrivati a primo ottobre ancora non vedi sprazzi di gioco e ovviamente non potevo pretendere di vedere già tutto che funzionasse alla perfezione ma almeno un'idea di gioco la voglio vedere, voglio vedere qualcosa, cioè che tutta questa preparazione stiva a che cosa è servita, se i nuovi non riescono a inserirsi cerchiamo di andare avanti forse con la vecchia assatura ma è tutto diciamo un mistero finalmente questa Fiorentina perché ieri lasciano di spunti, parliamo innanzitutto del primo tempo, primo tempo dove abbiamo fatto poco nulla, giusto il tiro di Bove che si è praticamente mangiato un gol davanti alla porta, poi c'era stato un fallo ma a mio avviso se la palla fosse entrata sarebbe stato gol perché quel fallo sarebbe stato revocato perché non era fallo insomma a mio avviso, però Bove davanti alla porta si mangia un gol, e qui voglio tornare su Bove, il primo tempo di Bove ragazzi, cioè di ieri sembrava addormentato, cioè sembrava quello che si è, uno appena, sai quando uno ti svegli, stai con lì col pigiame, tu stupido, imbambito, cioè che tu ti parla una torre di scipo che niente, è uguale, infatti a un certo punto Ranieri allargando le braccia dicendo ma che stai a fare, insomma svegliare perché si è fatto recuperare due palloni incredibili in una zona del campo molto delicata, quindi cioè dopo faremo anche le pagelle, ma poi ieri ragazzi molto male, male anche Cataldi lentissimo, anche lui sempre con le braccia larghe, perché ovviamente non sapeva chi dare il pallone, perché? Perché gli attaccanti davanti non si muovivano, facevano ovviamente pochissimo movimento, il problema poi principale era che Gudmundson veniva troppo spesso, troppo indietro, lasciando Ken praticamente da solo, e perché arredrava, perché? Per cercare qualche, per venisse a prendere un pallone, perché non ne arrivavano nessuno, il problema è che se tu togli Gudmundson dall'attacco, lì davanti c'è Ken da solo a battagliare con tutta la difesa dell'Empoli che era arroccata lì, perché l'Empoli comunque ragazzi non è che abbia fatto chissà che cosa, è stata quasi tutta la partita chiusa in difesa, e quindi era veramente difficile, insomma, riuscire a penetrare tutti quei difensori da solo con Ken, perché poi anche qua me, cioè ragazzi io qua me, poi ha tutta la mia stima, ma come è possibile? Cioè ieri all'improvviso, c'è di punti in bianco, qua me è capitano, ok non giocava Pirachi, ma perché qua me è capitano? Dalla Ranieri la maglia del capitano, qua me all'improvviso c'è un giocatore che a tutti gli anni sembra che sia sul punto di essere ceduto, non rientra mai nei progetti, poi resta sempre, perché non riceve mai offerte che valgono la pena prenderle in considerazione, quindi ieri sulla questa cosa campata in aria di qua me è capitano, proprio c'è io, cioè qua me non ha proprio il visite role per fare il capitano, quindi anche questa è una cosa molto molto campata per aria, e quindi il primo tempo ragazzi si chiude in un anno tale e noia totale, cioè oggi siamo siamo rimasti svegli proprio, ci dobbiamo prendere schiaffi per rivedere svegli, perché la partita non offriva nulla, proprio nulla, e purtroppo nel secondo tempo non è che il copione si è cambiato tantissimo, anzi forse l'empo è migliorato un pochetto, la partita è peggiorata anche di più, la situazione poi a mio avviso è stato sempre, andava sempre peggio, peggio, perché comunque più passavo i minuti, poi anche la squadra diventava sempre più lenta, poi con questo 4-4-2, ok, con questo 4-2-1-2-1-2-1, come cavolo dovete chiamare questa squadra di giocare con 4-4-2, con questa squadra qui è l'unico modo perché tu su un 4-2-3-1 come era, non lo so, cioè hai messo Gosens praticamente a fare il terzinaccio là dietro che non ha potuto mai spingere, infatti ho detto che è rimasto lì, non riusciva a fare nulla perché quello non è solo, cioè tu hai un bellissimo giottore come Gosens, gli dai ai gambe, metti su una posizione del campo inutile, praticamente lui lì non serve a niente, a niente, cioè lì ragazzi secondo me c'è una scelta è tra Biraghi e Parisi, per fare il 4-4-2 a Dodò e Biraghi dall'altra parte o Parisi, a centrocampo devi fare, metti i quattro, metti Gosens tra linea dei centrocampisti perché lì è proprio quello suo, se lo vuoi che ti spinga, che ti arrivano i cross in area di rigore e metterlo a fare il terzino ragazzi, cioè non serve a niente, cioè lo deprimi in quella posizione del campo, anche in Gudmundsson, io non so se lui arretrava proprio perché non arrivavano i palloni, ma se deve giocare deve stare innanzitutto in avanti, non può arrivare fino al centro della gama e prendersi i palloni perché sempre in questo modo, non ci serve a niente, lui non deve fare il regista, non deve fare la mezzala, deve giocare in attacco a fianco, vicino a Ken il più possibile, soprattutto in queste partite dove le squadre sono arroccate in difesa e non avendo uomini che saltano l'avversario perché non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo, deve stare lì davanti, non può finire centrocampo, quindi centrocampo deve fare molto di più, infatti anche qui secondo me Adli deve giocare, Cataldi no, io le verrei anche Bob e mettere Richardson, ci servono giocatori tecnici in mezzo al campo, che velocizzano un po' tutto il processo, la manovra che tiene la lentezza, passaggio a uno, passaggio a Nandro e tutto questo è la partita da Friatina, 90 minuti dei passaggi inutili, sterili, perché poi alla fine non è che portano a nulla, una squadra che non segna, quindi poi le dichiarazioni di Guame nel post partito ragazzi sono veramente gravi, cioè lui ha affermato che i nuovi praticamente vogliono risolvere le partite da sole e non passano gli palloni ai vecchi, che sono lì, lui ha detto come noi siamo lì per dare la mano a loro come loro devono dare la mano a noi, cioè sembra che ci sia una spaccatura all'interno dello spogliatore, questa è una cosa molto grave, questa è dovuta al fatto secondo me che Palladino, ragazzi purtroppo l'attivazione è questa, Palladino a mio avviso non è adatto, non è adatto perché il salto dal Monza, la Fiorentina e tanta roba, non è per tutti, in questo momento ha toppato la grande e se c'è anche questo problema interno dello spogliatore dove c'è proprio una spaccatura tra i vecchi e i nuovi calciatori che poi tutti vogliono fare, vogliono risolvere la partita da soli, questo non è calcio, questo è giocare a campietto con l'amici, che vuoi fare il fenomeno, ma in una società di calcio vince il collettivo, fa tiri, se poi uno ci fa ripensare, vede tante cose, vede il calcio di posizione che Gudmundson vuole battere a tutti i costi da solo allontanando con Cataldi, ritorniamo al calcio di rigore che Gudmundson ha voluto battere a tutti i costi, entrambi i calci di rigore nonostante ci fu una discussione con Kern, e quindi tutti questi piccoli dettagli se li mette insieme danno forza alla voce di Kwamei dicendo che c'è un problema serio di individualismo in questa squadra dove tutti vogliono risolvere la partita da soli, uno sono tutti anche ieri colpani, colpani ragazzi c'è, dovremmo fare un video a parte su colpani perché fino adesso è una delusione totale, calciatore inutile, ieri lentissimo si è fatto rimontare da tutti, si è fatto addirittura mettere sotto da Pezzella ragazzi, è Pezzella, io non mi ricordavo nemmeno che giocasse ancora, lo ha letteralmente annientato Pezzella, il giocatore più vecchio di lui, costa nemmeno una metà di quello che ci è costato colpani dal mozza, proprio distrutto, cioè annientato proprio, cioè noi con gli esterni ogni anno è sempre la solita storia, non riusciamo mai a trovare degli esterni che partano bene, speriamo che non faccia la fine di icone di sottile, che se no qui veramente roba da impazzire, e poi secondo me c'è questo problema di palladino ragazzi che ha questo, questo finale, cioè adesso c'è la partita di giovedì contro degli scappati di casa praticamente, se non battiamo nemmeno loro, meglio lasciar perdere, poi domenica c'è il Milan e lì è una prova molto importante, capiremo un attimino come stiamo messi, perché il Milan andrà davanti dagli attaccanti ragazzi che fanno paura, e quindi anche il Milan comunque non è l'Empoli, quindi se aprire non saranno arroccati in difesa, quindi anche noi potremmo avere la possibilità di attaccare, cioè avremo un banco molto importante e vedremo un attimino come l'affronteremo questa partita, ma palladino in questo momento secondo me è sulla graticola, giustamente, andrà a capire un attimino anche la situazione da spogliatoio che a mio avviso la situazione non è molto limpida, non voglio dire che è fuori controllo, ma c'è un problema di individualismo in questa squadra, qui ognuno vuole fare quello che vuole e non si può assolutamente fare, quindi diamo subito le pagelle velocemente, De Gea sei, sei e mezzo, cioè ieri praticamente in operativo, perché comunque anche Debole dicevo non ha fatto praticamente nulla, Dodò forse è tra tutti quello che ieri si è sbattuto un po' di più, è un sei e mezzo, anche se è ancora tanto confusionario, non è il Dodò quello che conosciamo, però è almeno è uno dei pochi che tenta qualcosina in più, la giocata, la corsa, Comunzo sei, ma alla fine anche lui non è che abbia corso chissà che cosa, è stato giusto la munizione, forse un sei meno, però a fine Comunzo anche lui, avviso già, perché sta giocando, perché non c'è Pogra, ci dice ma io non credo che Comunzo sarà il titolare in questa stagione, almeno lo spero, perché comunque non mi pare ancora pronto per fare il difensore centrale nella Fiorentina. Ranieri, 5 e mezzo, tra il 5 e mezzo al 6, anche lui molto spesso è tanto confusionario in campo, non è mai pulito, il difensore deve essere pulito, cioè deve fare troppi maggieggiare di rigore e tante volte si distrae e perde i palloni molto molto problematici. Gossetzen, gli do il 6 perché Poretto ieri giocava praticamente in porta, io non so come si possa mettere un calciatore come Gossetzen in quella posizione del campo, è veramente allucinante. Bove 5, partita bruttissima, il giocatore lento, detto svogliato ieri, e mi avviso da rivedere, perché se c'è questo è il Bove, io voglio Richardson in campo, Cataldi anche lui tra il 5 e mezzo e il 6, lentissimo, un giocatore che non ci serve a niente, noi ragazzi abbiamo titolari e due giocatori che sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, uno è Cataldi e uno è Bove, vedete come stiamo messi, io credo che la posizione di Cataldi deve essere presa assolutamente da Adli, perché Adli è veramente di un altro livello, non è un fenomeno, ma è comunque è un altro calciatore. Poi abbiamo col Pani 5, era anche da 4 e mezzo, ma io trovo 5, col Pani si deve dare una svegliata, perché va bene tutto, però insomma abbiamo investito tantissimi soldi e questo che stiamo vedendo in questo momento è un calciatore lontanissimo, anni luce da quello che era l'anno scorso. Gudmundson tra il 5 e il 6, anche lui partita flaccida, ma lo torno a quello che dicevo prima, perché purtroppo se deve venire anche a centrocampo a prendere dei palloni, fatica veramente tanto, lì davanti deve stare in attacco, insomma ecco quello non è il suo ruolo. quame 5, tra il 5 e il 6, anche lui partita quame tanto, non stoppa una palla, non ti importa, fa troppa confusione in campo, io penso che ancora quame in campo veramente non se ne può più, come non se può più vedere sottilla. E poi Ken ieri fa quello che può, ovviamente che lui lì da solo fa fatica, soprattutto quando trova il punto di difese ferme, statiche, lui fa tanta fatica. Deve venire fuori e prende i palloni e con il tiro attualmente non stiamo proprio bene perché lo ho visto tirare un po' di volte, c'è ancora molto da lavorare, però ovviamente noi si può chiedere i miracoli, ecco, perché giocata solo tutta la partita contro la difesa avversaria non è facile. Palladino 4, ragazzi, ieri ha sbagliato completamente tutto e questo modulo può andare bene, però vanno messi gli interpreti giusti, perché se fai un 4-3-2-1 devono giocare gli interpreti giusti. Gosens non lo puoi mettere lì, perché Gosens in quella potenzione non serve a nulla. Lì o metti Pirachi o metti Parisi e Gosens lo tiri avanti. In questo modo arrivano anche più cross per Ken e poi i giustori che stanno in la rigore. Quindi, ragazzi, poi sui subentrati nemmeno metto voce perché tra sottilla Iconet e il povero Beltran che gli vogliamo dare senza voto. Ah, poi c'è anche l'entrata di Parisi all'ottantasettesima, proprio bellissima quella, stupenda, proprio la gemma della partita di Palladino. Parisi all'ottantasettesima di un video che che cavolo di cambio è, a che serve poi, sinceramente. Poi è bello che quando entrato gli hanno fatto leggere 2.000 fogli, cioè mancavano due minuti appena la partita, gli hanno fatto leggere 300 fogli. Ragazzi, il video termina qui, vi aspetto nei commenti, di fatemi sapere voi come e che cosa state pensando il giorno dopo questa partita orrenda. Se anche voi avete le vostre perplessità fatemi sapere nei commenti qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.